Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano, benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di onnipresenza digitale. Che cos'è questa onnipresenza digitale? È una sindrome dalla quale siamo affetti tutti quanti nel momento in cui entriamo nel mondo digitale a contatto con web e social media. È la volontà di stare dappertutto, avere il profilo su Instagram, avere la pagina Facebook, il sito web, poi sto qua, poi sto là, mi trovi pure da quell'altra parte. Ma è veramente utile tutto questo per il nostro business? Oggi ce lo chiediamo insieme e naturalmente la risposta sarà no, ma quello che vorrei fare è inoculare in voi il vaccino contro l'onnipresenza digitale. Mi rendo conto che è un'operazione molto difficile, è quasi un'operazione a cuore aperto, ma sono sicuro che ce la potremmo fare se ci impegniamo giusto un attimino. Prima di farlo, scopriamo insieme chi è lo sponsor di oggi. Lo sponsor di oggi è il primo corso italiano di podcasting per chi vuole fare comunicazione, marketing e business attraverso i podcast, attraverso i contenuti inviati alle persone, serviti alle persone, al nostro pubblico di riferimento attraverso il podcast. Perché il podcast? Perché è un canale che rispetta il tempo di chi ci ascolta, che gli permette di ascoltarci, di fruire i nostri contenuti di valore, mentre fa anche altro. E quindi si pone fuori da quella guerra dell'attenzione dentro la quale ci mettiamo tutti quanti invece quando creiamo un blog, un canale YouTube. Ma non stiamo qui per dire quanto è figo il podcasting. Se già hai capito che il podcasting è il futuro, che il podcasting è uno strumento eccezionale per fare comunicazione e non hai un background radiofonico, non sai come creare podcast, non l'hai mai fatto, bene, questo corso è quello che fa per te. Perché dà un valore immenso in cambio di un prezzo veramente irrisorio. Perché un valore immenso? Perché non solo ti insegna come si fa il podcast in teoria, ma ti permette di costruire il tuo podcast durante il corso e di uscirtene dal corso con, già pubblicata su iTunes, la prima puntata del tuo podcast, la puntata pilota. Quindi direi veramente che è un corso che ti guida da 0 a 100 nel mondo del podcasting. Grandissimo valore, io stesso ho contribuito a svilupparne il programma perché è una cosa che mi appassiona moltissimo. Avrei io stesso partecipato come docente se fossi stato in Italia. Quindi te lo consiglio assolutamente. Quello che devi fare per iscriverti, per avere altre informazioni, per poterlo consigliare al tuo amico o al tuo collega è andare su youmediaweb.com slash corso di podcasting e lì potrai iscriverti, attenzione perché i posti sono limitati, in sede a Roma, ma i posti ci sono su Skype. Quindi puoi seguirlo da qualsiasi parte d'Italia. Corso di podcasting, vai, non te lo perdere. Bene ragazzi, allora entriamo ora nel mondo dell'onnipresenza digitale e scopriamo come posso contrastare questa pericolosissima sindrome dell'onnipresenza digitale. Allora ragazzi, l'onnipresenza digitale è quella cosa che ci spinge a voler stare dappertutto, su tutti i social. Allora tu cominci che apri il tuo sito web, dopo un po' parli con il tuo amico che ti consiglia di creare un blog perché fa figo creare il blog, una cosa molto 2.0, va bene, creiamo anche il blog. Quindi hai il tuo sito web, il blog e poi naturalmente hai creato anche una pagina Facebook perché la pagina Facebook bisogna crearla e creiamo pure sta pagina Facebook. E stai lì tranquillo con il tuo sito web, blog, pagina Facebook fin quando non arriva il giorno che qualcuno ti incontra e ti dice Uè ma non hai Instagram, cioè avere Facebook e non avere Instagram è come andare in giro con la ruota quadrata. E allora vai giù lì a creare Instagram perché Instagram lo puoi integrare con Facebook e puoi fare le foto, avere la tua comunità su Instagram ma puoi anche postare automaticamente le foto su Facebook. È un'idea geniale, dai integriamo anche Instagram. E ti illudi di poter vivere così nella tranquillità fin quando non esce quel nuovo social. Oh ragazzi, quest'anno è l'anno di Snapchat! E vai lì a creare anche Snapchat e allora Snapchat, Pinterest, Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, fermiamoci un attimo. Come mi muovo io personalmente quando devo creare per me o quando devo consigliare uno dei miei clienti rispetto alla creazione di una presenza digitale? Come mi muovo, come ragiono? La prima cosa che mi chiedo è chi sono le persone con le quali devo entrare in contatto? Perché a seconda della persona con la quale devo comunicare posso scegliere un mezzo diverso. Cioè se devo parlare con mia nonna non è che creo una pagina Facebook e poi la invito all'evento chiacchierata con tuo nipote. Molto semplicemente vado, alzo il telefono, faccio il numero, ciao nonna, come stai? E cominciamo a parlare. Quindi devo capire con chi voglio comunicare e dove stanno queste persone. Cioè qual è il social network nel quale loro si sentono a proprio agio. Capito questo, devo fare come Ulisse. Cioè mi devo far legare all'albero maestro della nave per resistere al richiamo delle sirene che mi dicono iscriviti su Facebook, crea il canale Instagram e ti chiamano ogni volta che esce fuori un nuovo social network. Allora ragazzi, non è importante stare su tutti i nuovi social network, su tutti i social network, avere gli stessi asset social che ha la nostra concorrenza o che ancora peggio ha il nostro salumiere o il macellaio dal quale compriamo la carne al mercato. Perché anche questo è successo. Una volta, mi ricordo, abitavo a Roma, sono andato al mercato dove mi servivo di solito e ho trovato al banco della macelleria, quello dove c'era il vecchio macellaio classico romano, il figlio, il quale mi ha detto Io voglio portare innovazione qua, ho creato la pagina Facebook, la pagina Facebook della macelleria. Dico scusa, così, per curiosità, ma che ci mettete su sta pagina Facebook? Eh, ci metto le foto quando fanno le magnate con gli amici che fanno la grigliata, mette i miei sarcicci e fanno le foto. Vabbè, ok, metteteci un po' quello che vi pare. Ok, quindi ho capito chi sono le persone con le quali voglio comunicare. Ho capito dove stanno queste persone. Quanti social devo scegliere per fare comunicazione? Ecco, la mia ricetta è scegli soltanto un social network. Perché i luoghi online sono come i luoghi veri e propri. Cioè, se tu avessi 13 case, dove ti verrebbero a cercare i tuoi amici quando vogliono bersi una birra con te e passare al volo? Non so dove sta. Per esempio, io ho un'amica la quale si è fidanzata e poi sposata con un ragazzo a Milano e, avendo comunque tanti legami anche a Roma, continuava a viaggiare tra Roma e Milano, Roma e Milano e Roma e Milano. Cosa succedeva? Che i rapporti con le persone che gli erano più care, con i suoi amici, si sono andati allentando perché tutti gli amici soliti che quando stava a Roma la invitavano ogni sabato a uscire hanno cominciato a dire Ah, cavolo, non la posso invitare perché sta a Milano. E quelli di Milano non la cominciavano a invitare perché dicevano Beh, no, non la possiamo invitare perché starà sicuramente a Roma. E questo fatto non la chiamava più nessuno. Quindi, l'essere dappertutto crea solo confusione. Se tu invece sei in un luogo definito, preciso, univoco, a meno che tu non abbia una redazione di persone che stanno lì dietro a tutti i social a rispondere, interagire, ma anche in questo caso sarebbe meglio, a mio avviso, concentrare l'energia su uno, massimo due social network, proprio se hai una redazione, dicevo, due social network. Se non hai una redazione social vai solo su un social network che è quel bar dove venire a trovarti. Ho un amico carissimo siciliano che abita in una cittadina vicino al luogo dove vive Andrea Camilleri, il romanziere, e lui mi ha raccontato che se vuoi incontrare Andrea Camilleri vai a... ora non mi ricordo come si chiama la città, in provincia d'Agrigento, vai in questa città, vai al bar tal dettaglio e sicuramente lo trovi lì che prende il suo caffè e gioca a carte con gli amici. Ecco, più o meno la stessa cosa, la stessa dinamica dobbiamo creare sul web, cioè dobbiamo rendere certe le persone che ci seguono che se vanno in un luogo ci trovano in questo luogo. Qual è la riprova? Che quello che sto dicendo non è un'assurdità, che non ti sto tagliando le gambe delle tue presenze online. La riprova è quello che chiede di fare Facebook. Cioè Facebook da poco ha attivato quel badge legato alla capacità di rispondere alla velocità della tua reattività sui messaggi e questo badge si illumina quando tu rispondi subito ai messaggi che ti arrivano sulla pagina. Ora, di per sé, questa potrebbe sembrare una stupidaggine, ma mostra chiaramente come nella visione di Facebook l'idea è che tu su questi social ci stai, cioè che tu sulla tua pagina Facebook ci abiti, ce l'hai sempre aperta, hai le notifiche attivate sul cellulare come se ti chiamasse qualcuno. E quando una persona viene e ti chiede una cosa attraverso Facebook, tu gli puoi rispondere perché sei lì. E quando ti chiedono un chiarimento rispetto a un contenuto che hai pubblicato o ti contattano attraverso un altro mezzo via email e fanno riferimento a qualcosa che ho visto su internet, tu sai che l'hanno visto sicuramente solo sulla pagina Facebook perché è quello il canale dove pubblichi le cose, dove dici quello che ti sta a cuore, dove dai le novità, dove dai le informazioni quelle calde. Insomma, sei sicuro che se quella cosa le persone l'hanno vista online, l'hanno vista nel luogo dove tu abiti online, che è la tua pagina Facebook. Al contrario, se tu stai dappertutto, crei solo confusione. Quindi nel peggiore dei casi non riesci a star dietro a tutti i luoghi che hai creato. Quindi le persone ti iscrivono su Twitter citandoti e tu neanche lo sai. Vanno su Facebook e mettono un commento e tu non gli rispondi e te ne freghi. Non c'è veramente cosa peggiore. Nel migliore dei casi, quello in cui riesci a stare dietro a tutto, ti viene una specie di esaurimento nervoso. Perché? Devi stare qua, devi stare là, poi magari devi delegare perché non ce la fai a stare dietro a tutto. Io per esempio ho una mia cliente, una scrittrice, la quale quando ha iniziato la sua consulenza aveva profili su tutti i social e nella nostra prima sessione di consulenza mi parlava del fatto di volerne aprire altri due di profili su altri due social nella settimana successiva. La prima cosa che gli ho detto è ferma lì, non ti muovere, non fare nient'altro. Quello che devi fare è focalizzarti, trovare il luogo dove ti senti a tuo agio. Lei l'ha trovato, ha trovato che la pagina Facebook era il luogo migliore per dialogare con quello che è il suo pubblico di riferimento e ha scoperto di aver fatto un errore enorme, cioè di aver lasciato la gestione della pagina Facebook a un'agenzia esterna per mesi, la quale agenzia esterna, per quanto potesse essere brava, per quanto potesse fare i post fighi con le immagini, con la grafica, poi non era lei, cioè le persone che seguono una scrittrice vogliono dialogare con quella scrittrice, non vogliono dialogare con qualcuno che rappresenta la brand identity della scrittrice. Quindi la pagina era moscissima, doveva spendere dei soldi per fare campagne e dare visibilità ai suoi post. Quello che è successo quando ha ricominciato ad appropriarsi della sua pagina Facebook è stato uno, un cambiamento generale dell'apparenza di questa pagina, perché ha cambiato la copertina, ha cambiato il tipo di contenuti pubblicati, perché sono i contenuti che lei realmente poteva sviluppare, tutti i contenuti dove la sua faccia era fortemente presente, dove lei stessa raccontava le sue storie attraverso Facebook. Dall'altra parte il pubblico si è rivitalizzato, quindi ha aumentata la sua reach, la quantità di persone che vengono toccate dai suoi messaggi attraverso Facebook, attraverso l'algoritmo con il quale Facebook regola la visibilità che dà ai contenuti che pubbliche, quindi la pagina è ridecollata nuovamente, ma cosa ben più importante, lei ha riscoperto il piacere di stare su Facebook, il piacere di comunicare con le persone, le persone le hanno scritto, le hanno scritto le email dicendo mi piace tantissimo quello che stai facendo attraverso Facebook, quindi attraverso email, messaggi su Facebook, commenti, ha potuto toccare con mano che la pagina Facebook è un luogo vivo dove fare marketing e comunicazione, ed è un luogo divertente, non è più un obbligo per lei, è quella specie di passatempo che la distrae, la diverte, gli dà la possibilità di esercitarsi a livello creativo giocando, divertendosi con le persone che la seguono, quindi scegli un luogo e punta tutto su quel luogo, perché senza sapere né leggere né scrivere, se concentri le tue energie su un solo punto, riuscirai, su un solo luogo, riuscirai a ottenere risultati migliori, ora ricordo questo grafico, non mi ricordo bene dove l'ho letto, forse l'ho letto su un libro, insomma c'era un cerchietto e poi intorno tutte delle frecce, come se il cerchietto fosse un sole e le frecce fossero i raggi, e la didascalia di questa grafica diceva, questo è quello che ottieni quando investi su tanti fronti contemporaneamente, quando stai su tanti social contemporaneamente, accanto c'era un altro disegno che era un cerchietto, ma questa volta, invece di esserci tante frecce, ce n'era una sola, questa freccia era però la somma della lunghezza di tutte le freccette del grafico precedente, e con questo ottenevi visivamente una cosa totalmente diversa, cioè un cerchietto e poi una freccia lunghissima, capace di penetrare, di andare al di fuori, di raggiungere persone con le quali non avrebbe altrimenti raggiunto, questo è l'esempio grafico di che cosa si ottiene focalizzando le tue energie su un solo social network. L'ultima cosa che voglio condividere con te è l'eccezione a questa regola, quando è che puoi fare un'eccezione? Quando c'è una specie di progressione nell'intimità, nella relazione che vuoi intrattenere con le persone che entrano in contatto con te attraverso il mondo digitale. Un esempio pratico, visto nella realtà, ecco, c'è il bar e c'è casa tua. Ora non è che a tutti gli dici oh ragazzi venite a casa mia e ci prendiamo una birra. Alle persone che non conosci gli dici dai ci vediamo al bar. Quando poi le persone che frequenti al bar diventano amici, allora a quel punto gli dici ragazzi venite qui a casa mia, questo è il mio indirizzo, venitemi a trovare quando volete. Quindi quando vuoi creare degli step sequenziali nell'avvicinarsi, nel crescere della relazione, beh allora può valere la pena di creare presenze diverse, però che siano realmente non presenze alternative l'una all'altra, ma che siano parti di un unico percorso. Per esempio, se hai delle idee da condividere rispetto a quello che ci siamo detti, se hai delle esperienze, cose che vanno a supporto di quello che ti ho raccontato, oppure se la pensi diversamente, vuoi raccontarmi quali sono le tue esperienze che invece sconfessano questo consiglio che ti ho dato, bene, puoi andare su facebook.com slash youmediaweb quella è la pagina facebook dove si può andare e continuare a chiacchierare di quello che ci diciamo durante il nostro podcast anche al di fuori, dall'ascolto del podcast, trovare altre persone che lo ascoltano, con le quali condividere, commentare, dare sfogo alla nostra volontà di chiacchierare su quello che impariamo attraverso strategia digitale se poi vuoi un canale diretto cioè se dalla pagina facebook cominci a vedere che c'è la necessità di parlare in maniera più diretta con il sottoscritto che è la volontà di essere avvisato ogni volta che uscirà un contenuto beh, il luogo è telegram la piattaforma è telegram il sistema di instant messaging della quale abbiamo parlato nella puntata di lunedì scorso e questo strumento telegram ti dà la possibilità sia di ricevere tutti gli aggiornamenti e i contenuti diciamo extra che non entrano dentro al podcast e che non trovi su facebook andando sul canale telegram.me slash strategia digitale sullo stesso canale quindi nello stesso luogo se invece di leggerti il giornale vuoi fare una chiacchierata quindi se invece di apprendere fruire vuoi dire la tua beh, puoi iscrivermi direttamente su telegram.me slash Giulio Gaudiano questo canale qui ti permette di parlarmi cioè di chattare direttamente con me e poter avviare un dialogo che è diverso dal dialogo che puoi avere su facebook che è un dialogo pubblico dove non puoi dire guarda io ho questo problema sul mio business tutti pensano che vada bene invece sta andando malissimo vorrei creare una strategia digitale aiutami non te la sentiresti magari di andarlo a dire su facebook ma su un canale riservato quello sì è un canale attraverso il quale puoi chiedere un supporto più intimo più personale ok questo è tutto quindi due canali diversi facebook e telegram ma con due scopi molto diversi uno lo scopo uno scopo è quello di aggregare tutte le persone interessate genericamente e permettere di chiacchierare come potrebbe essere un bar l'altro è invece un salottino più privato l'indirizzo di casa mia dove mi puoi trovare e dove puoi vedere delle cose che non vedi altrove oppure puoi dialogare direttamente ragazzi per oggi è tutto ma non dimentichiamoci naturalmente il nostro souvenir digitale il souvenir digitale il souvenir digitale allora il souvenir digitale di oggi è fammelo ripescare un'applicazione che si chiama Quartz con la Q Q U A R T Z l'ho trovata dentro l'app store del di iOS sul suggerimento degli amici di Digitalia non so se conoscete questo podcast è un podcast fighissimo che io ascolto da bravo geek per rilassarmi è un podcast settimanale dove si parla di innovazione digitale di visioni del futuro attraverso il mondo digitale e loro hanno suggerito questo strumento come uno strumento per aggiornarsi che cos'è Quartz è in pratica una chat con un'intelligenza artificiale la quale ti propone delle notizie ma te le propone non con il titolo di una di una news te le propone come fosse un tuo amico che ti scrive e ti dice oh ma lo sapevi che tizio ha vinto l'Oscar ma a me mi sembra veramente incredibile che l'abbia vinto con quel film che era assolutamente violento per dire e ti offre la possibilità di rispondere a questo messaggio con dei messaggi già pronti per esempio su un messaggio come quello che ti ho detto le risposte potrebbero essere dimmene un'altra oppure ma dai raccontami di più tu clicchi su una di queste due risposte e a seconda per esempio se tu hai chiesto di saperne di più ti arriva fuori un altro messaggio di chat che ti dice eh sì l'ha vinto con il film tal dei tali che ha preso X nomination e hai il collegamento a un articolo su una fonte autorevole su un giornale internazionale su un blog o su un sito web che parla di quell'argomento lì a questo punto poi di nuovo rispondere al messaggio con hai altre notizie simili oppure raccontamene un'altra se invece rispondi raccontamene un'altra lui te ne racconta un'altra e ti invece di approfondire l'argomento del quale ti stava parlando ti dà una notizia che parla di altre cose su un altro settore completamente qual è la figata che questa intelligenza artificiale apprende dalle tue scelte perché in realtà quella risposta che tu dai in linguaggio naturale ah davvero dimmi di più oppure dimmene un'altra è la risposta mi interessa non mi interessa e a seconda di quante risposte dai del tipo mi interessa in una direzione è come se tu assegnassi un punteggio agli argomenti di cui si parla o alla categoria di cui si parla cioè se tu stai parlando di Hollywood degli Oscar beh sicuramente ti interessa lo spettacolo se hai voluto sapere sei notizie tutte sulla notte degli Oscar quindi ti posso proporre un'altra altre notizie che riguardano lo spettacolo bene lui ti propone sempre più notizie interessanti in relazione a quelle che sono le tue scelte quindi apprende attraverso le tue scelte attraverso le tue risposte quali sono le cose che ti interessano e ti seleziona le notizie che ti interessano dando dandoti i link i collegamenti diretti a quelle notizie è veramente uno strumento incredibile quando lo racconti non ci si crede quando invece lo provi visto che tra le risposte puoi mettere anche le emoticon cioè hai veramente delle risposte molto personalizzate è oltre che interessante oltre che figo è anche divertente Quartz cercalo sull'App Store e fammi sapere che cosa ne pensi e anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata ma non possiamo chiamarla fine se non c'è il ringraziamento a Malokin che ha lasciato una sua recensione dal titolo da non perdere uno dei migliori podcast che abbia mai ascoltato ricco di utili consigli fresco mai banale o ripetitivo riesce a dare una visione d'insieme dettagliata allo stesso tempo sui diversi argomenti trattati senza far perdere l'attenzione o l'interesse dell'ascoltatore assolutamente da seguire grazie mille Malokin per la tua recensione grazie a tutti coloro che tra voi vorranno lasciarci una recensione siamo vicinissimi alle 100 recensioni quindi lasciate la vostra recensione ci vogliono 15 secondi sull'iPhone Store oppure sulla vostra applicazione podcast io vi ringrazio per averlo ascoltato anche oggi e ringrazio anche Sara Veltri coatrice del programma Ilfonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano